Ridotta presenza, per non dire assenza, di servizi nell'ospedale Vittorio Emanuele Di Gela, mancanza di personale medico e paramedico, assenza o mancato funzionamento di strumenti diagnostici, sono solo alcune delle carenze della sanità sul territorio locale su cui è puntato l'indice il Comitato Gelensis Populus. Problematiche che, secondo il Comitato, che la gruppa numerose associazioni che si occupano proprio di sanità, creano enormi disagi ai quasi 76.000 cittadini gelesi o, per meglio dire, ai 130.000 abitanti dell'area sud della provincia di Caltanissetta, oggi libero consorzio. Occorre partire dallo stato attuale, dice il portavoce Liliana Bellardita, che vede oramai ricadere sull'ospedale gelese la popolazione dell'intero sud della vecchia provincia nissena da quando si è deciso di sopprimere molti dei parti negli importanti ospedali di Niscemi e di Mazzarino. Tuttavia, da come l'attuale manager dell'Asp CL2 sta gestendo la sanità a Gela, sembra che la prossima scura calerà sul collo dell'ospedale Vittorio Emanuele. La carente offerta sanitaria ospedaliera, che soffre dell'assenza e o mancato funzionamento di strumenti diagnostici, delle lunghe liste d'attesa, della mancanza di personale medico e paramedico adeguato in termini numerici presente su Gela, spinge ad una immorale migrazione dei pazienti gelesi, sostiene ancora Bellardita, verso altre strutture sanitarie del distretto benché vada o del fuori distretto. Il riferimento è a tutti quei cittadini che quotidianamente sono costretti ad affrontare estenuanti viaggi verso Caltanissetta, San Cataldo, Caltagirone o Vittoria. Migrazione che fa dei cittadini gelesi, continua la nota, una sorta di merce umana da dividere tra gli ospedali della Sicilia centro-meridionale. La sanità gelese non pretende nulla in più rispetto agli altri territori, vuole solo la normalità, nonostante il riconoscimento nazionale di Gela come sito ad alto rischio ambientale. Normalità che significa dimenticare le lunghe attese per avere accesso al pronto soccorso, poter trovare sempre medici nelle parti sia per la cura che per la diagnosi, avere le strutture adeguate ai bisogni dei cittadini, in sostanza avere le giuste strutture, i giusti macchinari ed il congolo personale per dare la possibilità agli utenti di una pronta e corretta risposta sanitaria senza spostamenti inutili. Poi il Comitato fa un'analisi dettagliata della situazione di ogni unità operativa da cui emergerebbe una situazione disastrosa. Citiamo il reparto radiologia. Si è fatto un gran parlare di tacca di ultima generazione, ma nel reparto è sempre presente una sola ed unica tacca di 12 anni che si guasta facilmente e considerato che viene sempre utilizzata. Non vogliamo fare alcuna polemica, rimarca Bellardita, vogliamo riaccendere i riflettori sulla nostra città che è patrimonio di tutti indistintamente e vogliamo solo esortare la politica locale e non solo a prendere provvedimenti immediati per l'ospedale di Gela affinché i gelesi possano raggiungere quantomeno la normalità in ambito sanitario.